Non è Natale senza l'albero illuminato a festa, ma non è Natale neppure senza presepe. Ed è per questo che i giardini Roma del Pincio di Fano sono diventati la nuova location in cui celebrare la natività nel migliore dei modi, attraverso l'ultima creazione dei maestri carristi di Carnival Factory, un presepe a grandezza naturale realizzato in cartapesta e inserito all'interno di una struttura in legno della adriatica superficie, il tutto circondato da un'illuminazione davvero inedita. Quanto lavoro ci è voluto per realizzare questo bel presepe? Allora, è stato realizzato alla velocità della luce, è stata un po' una lotta contro il tempo, ma diciamo che in una ventina di giorni ce l'abbiamo fatta a finirlo, ecco, cominciarlo e finirlo. Quante persone ci hanno lavorato? Abbiamo lavorato in quattro, c'è chi si è occupato della modellazione, chi del colore, chi del rivestimento esterno, dell'indurimento e chi della finitura, insomma. È fondamentale che la città cominci a capire che i maestri carristi possono lavorare tutto l'anno per le manifestazioni della nostra città, quindi sono particolarmente felice che questo comincia a passare. Quest'anno abbiamo questo magnifico presepe che con la prospettiva che nei prossimi anni si diventi sempre più grande e poi noi speriamo di vederci prestissimo per il nostro amato carnevale. L'idea del presepe al Pincio è frutto di un brainstorming tra l'architetto Stefano Seri, il comune di Fano e la proloco Fano Un Fortune, vero e proprio braccio operativo dell'amministrazione. Siamo molto contenti di tutta la suggestione che è nata quest'anno per il Natale, perché considerando tutto ciò, considerando tutta la situazione del momento, abbiamo secondo noi creato una bella cosa suggestiva, eccetera. Le luci sono fantastiche e speriamo nonostante tutto in un Natale migliore e in una luce migliore per tutti, per il nuovo 2021. Non solo presepe però, perché in un periodo in cui l'arte si ritrova confinata all'interno di musei resi inaccessibili dal Covid, l'amministrazione comunale ha pensato di far uscire virtualmente allo scoperto le opere e i principali monumenti della città, proiettandoli direttamente sull'arco d'Augusto grazie al videomapping di un'altra eccellenza del territorio, la Stark SRL, il tutto sotto l'attenta supervisione di Cesare Ottaviano Augusto. C'è tanta collaborazione in città, tanta voglia di guardare al futuro in questo Natale così particolare, così la città di Fano si è veramente arricchita di una serie di installazioni in ogni punto della città come il cielo stellato in Piazza Costanzi, l'albero del signore Seri Porta Giulia e il grande albero di Piazza 20 Settembre. Oggi scopriamo questo Pincio, una location così suggestiva, ma che ha un'ulteriore suggestione, quella dell'illuminazione, quello del presepe realizzato dai maestri carristi della città di Fano e anche quello della proiezione sull'arco d'Augusto che presenteremo proprio tra qualche istante che rappresenta così la voglia di continuare a guardare le nostre identità artistiche e culturali.